Dopo il recente successo delle Fate Ignoranti la serie, l'attrice Cristiana Capotondi è tornata alla ribalta e ancora una volta si conferma una delle personalità più amate dal pubblico. In coppia con Luca Argentero e Edoardo Scarpetta, Cristiana ha portato in scena un remake del film di Ferza Nozbetek. La serie ancora una volta è stata curata dal regista turco che ha scelto personalmente il cast. Della Capotondi ricordiamo anche gli inizi con film dedicati a un pubblico adolescente e la successiva maturità che l'ha vista interpretare ruoli sempre diversi. Oggi Cristiana ha 42 anni ed è legata dal 2006 a Andrea Pezzi, imprenditore e proprietario di diverse aziende. L'attrice qualche tempo fa aveva affrontato il tema della maternità dichiarando che non per forza una donna deve essere padrona del suo istinto materno. La Capotondi segnalava che i tempi sono cambiati e che molte donne decidono di non fare figli in estrema libertà. Tutto faceva pensare che anche lei non sarebbe diventata mamma ma adesso Diva e Donna ha deciso di lanciare un gossip. Qui sembra davvero certa. La gravidanza di Cristiana Capotondi. Un compleanno speciale sull'ultimo numero di Diva e Donna è comparsa una notizia che ha acceso immediatamente la curiosità dei fan del cinema italiano. L'attrice Cristiana Capotondi pare sia in dolce attesa e che a settembre festeggerà un compleanno molto speciale. Alla fine dell'estate infatti la Capotodi compirà 42 anni e questa volta si prepara a diventare mamma. Sui social la notizia è impazzita e qualcuno segnala l'età dell'attrice che di certo non è più giovanissima. Cristiana intanto non ha ancora riusciato dichiarazioni in merito alla questione e molto probabilmente al momento resterà in silenzio. L'attrice di Come tu mi vuoi è molto riservata circa la sua vita privata. Attualmente pare si stia godendo la privacy e la tranquillità e stiva nella campagna senese lontana dai riflettori e dalle luci della cronaca rosa. Al momento non ci sono altre indiscrezioni sulla dolce attesa di Cristiana, ma il settimanale Diva e Donna ha lanciato ormai la notizia e moltissimi sperano presto di rivederla con un bebè in braccio. Non manca però chi ha voglia di rivedere il talento della Capotondi sul grande schermo e pare che qualcosa stia bollendo in pentola dopo il grandissimo successo delle fate ignoranti. Cosa riserverà il futuro per la talentuosa attrice? Lo scopriremo molto presto. Grazie a tutti.